Guarda, gira, può fare volo capovolto, volo laterale. Se noi non sapessimo che fosse un elicottero e guardassimo solo una parte centrale del filmato da lontano, ci sarebbero grossi dubbi perché noi non sappiamo cos'era l'inizio. E' molto semplice, ma poi adesso virtualmente possiamo far volare qualsiasi e veramente qualsiasi cosa. Aspetta, dovrebbe esserci un pezzo, ecco, dove rovescia addirittura da una... Lo rovescia in un attimo, è bravo questo di farli volare perché... Oppure passiamo a un altro per dirvi che si può far volare qualsiasi cosa. Guarda, questi sono degli Emirati Arabi Uniti e vola. Naturalmente ha un'elica davanti, però ha il profilo aerodinamico anche perché le ali, se voi vi ricordate la serie, sono state molto modificate perché erano due strisce, mentre qua sono delle ali che danno portanza con gli alettoni, però vola. Per cui noi possiamo far volare un disco volante a tutti gli effetti con metodi tradizionali. Dopo che da vicino io sento il rumore del motore, è logico, però... E vola. Ma tranquillamente proprio, senza nessun problema, non è che ha difficoltà... Tutto quello che si vuole. Per cui... Sempre a fare una corsa per dover decollare che io ci avrei un fiatone quando salgo. Ma comunque... Non puoi spiegarlo, assolutamente. Sì, ma se vi fate un giro su YouTube e scrivete RC, come qui, RC, model, viene fuori l'inennarrabile, veramente. Eccone un altro. Allora, pensate a questo, quando viene visto volare, può anche cambiare il colore delle luci mentre vola. Che vedi anche le luci? Cambiano il profilo. Il motore centrale. Ciao. Questo incontro era avvicinante. Triangolo volante? Sì, sì. Tu lo fai volare a 100 metri di altezza, gli scatti 20 foto, hai le foto del secolo. Via. Sì, sì. E la luce dei led è veramente potente, per cui si vede da molto lontano. Non è un kit che non sa i kit? No, no, no. Non trovi gente che usa kit quando fa queste cose qua. Anche perché il peso maggiorato dei led deve... Non è riconoscibile da cadere per il produttore. E poi ci sono le cosine così, che si vendono in rete e costano una decina di euro. E volano. Dopo un po'. In pratica è un mini elicottero con due rotori che girano opposto l'uno all'altro per evitare l'utilizzo dell'elica di coda. Possono cambiare colore, possono avere varie modalità di colore e possono volare tutti. Sì, hanno un'autonomia di 15 minuti circa, perché vanno a batteria. Si trovano in qualsiasi negozio, non so, i bazar a gestione cinese che hanno tutte quelle cosettine strane, di solito le trovate lì. Ma domanda, non aveva pensato di affiaccare la fotografia alla venta di questi oggetti? Era la fine della conferenza, vivendoci. Eh, non sarebbe mica. Eh sì, eh. Oppure, ecco, i riflessi, oppure la fenomenologia dell'immagine sfocata che di solito si vede nei filmati. Questo tra l'altro è un video che viene da R51, che è un sito, se vogliamo, di parte, perché è molto, molto portato a pubblicare notizie sensazionalistiche. Ufo no, certe cose non appaiono per quello che sono a volte. E noi siamo lì che guardiamo fuori dalla finestra, ah, un ufo. E non solo, perché finisse qui, dici, ok, è Venere, l'ha fotografato da vicino. Però, se lo zoomi, c'è un disco, c'è qualcosa di... ci sono delle punte, delle strutture, anche sopra si vede un'ombra nera, c'è qualcosa, no? E dice, cavoli, ha la forma classica, cupola sotto, cupola sopra, una linea centrale che gira, non può essere altro. Se noi fermassimo qui il filmato, anche questa volta prova sconvolgente. Però, se guardiamo il filmato fino alla fine, ci accorgiamo che, se noi sfochiamo qualsiasi fonte luminosa, la fonte luminosa diventa totalmente un'altra cosa. La forma che vediamo, tra l'altro, è la forma del diaframma della fotocamera, che è un rombo, non è un cerchio. Perché un cerchio lo viene utilizzato, che è formato da varie lamelle, nel reflex. Nelle compatte sono dei buchi o dei rombi fissi, che vengono fatti ruotare. La forma comincia a cambiare. E... Aereo, con luci di atterraggio accese e sfocato. Appena l'aereo arriva vicino a noi, rimettiamo la messa a fuoco a posto. Lo stesso effetto può essere ottenuto con un qualsiasi lampione. Potete provare a mettere fuori fuoco stasera la fotocamera a casa, e ottenete esattamente lo stesso effetto. Altrimenti, vabbè, dopo ci sono i soliti casi di persone che vogliono apparire a tutti i costi. Questi li riconosce anche Paolo subito. Con la testimonianza sotto, ci sono ancora, guarda, si muovono. Eccoli, ooooh... Ascoltate bene l'audio. E alla fine del filmato abbiamo anche la spiegazione direttamente da chi ha girato il filmato. Poi si unisce, diventa un corpo solo. Molto luminoso, sembra che illumini addirittura le nuvole. Si divide di nuovo. Si rimuovono di nuovo verso la casa. Quindi può essere anche considerato abbastanza veritiero, no? Vederlo così e dici, cavoli, è una prova. A parte le voci dei ragazzi. Avete sentito? Click. Esatto. Il vetro con due lampade puntate addosso, che si muovevano, perché io muovo la fotocamera, cambio il mio punto di vista. Muovo anche le luci, cambio doppiamente il punto di vista. Quindi sembrano veramente che navighino a tutta velocità nel cielo. Eh, solitamente. Allora. Mi ha capito appassionato a me di fare una foto di questo genere direttamente dalla finestra del mio ufficio. Questo ne abbiamo dato che è simile, ma non è la stessa casistica, perché questo qua è voluto, cioè ha voluto far credere che fossero degli UFO. Vedi, ce ne sono certi luminosi, certi invece non sono luminosi, sono metallici, sono tutti in linea, vanno dietro uno all'altro, in mezzo alla città. E il testimone si muove, quindi non può essere una lastra di vetro così grande in mezzo alla strada. Vedi, cioè, oh, guarda, ce ne sono dispenti anche, lì sopra due. Oh! E già lì mi ricordava Urzi. E dici, cavoli, è di metallo, è vero, cioè non è una cosa inventata. Dopo vi faccio vedere la soluzione, prima vi faccio sciropparvi tutto il filmato, così vedete fino a che punto la gente può andare avanti per cercare di spacciare come UFO delle cose che dopo vedremo sono normali. Però questo lo fotografa, ci vede la sagoma del disco, cioè siamo per essere i vasi, comincia anche a piovere e gli oggetti continuano a rimanere lì imperterriti. Cani che abbaiano, acqua che scorre. Vi faccio vedere. L'ultima parte. Dopodiché c'è tutta la scritta che ha fatto la ripresa, ve la riassumo semplicemente, ha fatto le riprese negli Emirati Arabi e qualcuno guardando il video ha detto ma ci sono stato anch'io in questo posto. e li ho fotografati anch'io gli UFO, solo che è un centro commerciale dove c'è tutta la volta che è dipinta con il cielo nuvoloso. E non piove. Se noi guardiamo il filmato attentamente, il primo che abbiamo visto, la pioggia è stata aggiunta in post-produzione video, non era vera, anche il rumore. Sono le luci di illuminazione del centro commerciale che sono montate sul soffitto a volta con le nuvole dipinte sopra. Abbiamo intere invasioni sulle piste da scia. Per cui è molto facile misinterpretare qualcosa se non si sa dove andare a cercare. Sono tutte allineate, guarda che coincidenza. Questo è il video che un utente di YouTube ha messo su YouTube dopo che la prima persona aveva pubblicato il video dicendo che aveva visto gli UFO, che era una prova sconcertante, eccetera, 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 eccetera.